Gentili telespettatori, buona giornata. Francesco Paolo Figliuolo è il generale di Corpo d'Armata che oggi è al comando Interforze Italiane, quindi è un altissimo ufficiale delle Forze Armate, che ha fatto per un periodo il commissario Covid, dove ha organizzato le vaccinazioni, cioè lui che era a capo della logistica dell'esercito italiano, stimato poi in tutto il mondo, ha messo a disposizione le sue conoscenze di logistica per organizzare le vaccinazioni, cioè proprio l'organizzazione, la logistica, quindi non la decisione se fare i vaccini, non fare i vaccini, fare vaccinare, obbligare, il Green Pass, lui non c'entra nulla con quello che ha deciso Speranza, Draghi, Salvini e Berlusconi, perché ricordatevi che sul Covid hanno deciso i migliori, i migliori erano Lega, Forza Italia, PD, Leu, 5 Stelle, ma il generale Figliuolo era un tecnico, chiamato per la logistica, cioè metti a disposizione le tue competenze per organizzare come fare le vaccinazioni. Naturalmente è stato attaccato come tutti quelli che facevano parte di quel governo, ma c'è chi lo vuole far tornare indietro. Allora, si è parlato, ma Fratelli d'Italia ha smentito, si è parlato che il partito di Giorgio Meloni, o Giorgio Meloni, si capisce, abbia poi contattato Bassetti per candidarlo in politica, ma Bassetti dice ma io mica voglio fare il politico, io voglio fare il ministro, tipo, 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 ecco, voglio fare il ministro, comincia a fare il politico e poi vedremo, no, politico no, io ho direttamente il ministro, perché non presidente della Repubblica allora? Bassetti for President. Va bene, è che la notorietà ti mette i grilli per la testa, non ti basta neanche fare il parlamentare, ma devi fare il ministro, insomma. Sta di fatto che dopo questa uscita di Bassetti, no, il parlamentare voglio fare il ministro, Fratelli d'Italia ha detto noi non gli abbiamo mai proposto nulla. Boh, sarà vero, non sarà vero, si saranno irritati dentro Fratelli d'Italia, gli dice come gli proponiamo un posto che sai quanti piccoli politici di Fratelli d'Italia, che sono migliaia in Italia, vorrebbero fare il parlamentare, viene proposto a lui, dice no, faccio il ministro. Ecco, o si sono offesi dentro Fratelli d'Italia, no, no, lascialo perdere, o si sono offesi, o realmente la proposta non c'è mai stata. però da quello che si diceva fino a ieri è che Fratelli d'Italia avrebbe proposto a Bassetti di entrare in politica con loro e oggi si dice, anzi, forse più che si dice, che la Lega con Salvini potrebbe mettere il generale Figliuolo come commissario per l'emergenza immigrazione clandestina. Quindi vorrebbe, non so se avete capito il giochino di Salvini, è un problema fare il ministro degli interni, infatti Salvini sembrerebbe che sia più propenso a far mettere qualcun altro al ministero, un leghista o una leghista, come dire, io se vado ancora lì, mi danno l'ergastolo, quindi ci mando qualcun altro, così sono cavoli suoi, no? Eh, così dice, io ti faccio ministro, ah sì, vabbè, eh, buona fortuna. Però vorrebbe affiancare questo ministro da un commissario straordinario come il generale Figliuolo, un alto ufficiale come dire, adesso magistrati, prendetevela anche col generale Figliuolo. Ecco, insomma, Salvini vorrebbe mettere questa figura, dire, la mettiamo lì come commissario straordinario, così chiude gli hotspot, si mette lì col ministro scelto dalla Lega e insieme faranno, fermeranno le ONG, no? Con la penna. Ecco, insomma, anche Silvio Berlusconi ha rotto poi gli indugi, dice, penso che mi candiderò al Senato, così faremo tutti contenti, dopo aver ricevuto pressioni da tanti, anche fuori da Forza Italia, ha detto, a radio anch'io, secondo me non ha avuto nessuna pressione e lui che lo vuole fare, basta. Per lui è una questione di orgoglio, ecco, per lui è una questione di orgoglio, non c'entra nessuno, gli ha fatto pressione. Voi avete telefonato a Silviuccio dicendogli, Silvio, fanno per noi, scendi in campo, non credo, anche perché non credo che voi abbiate il numero di cellulare di Silviuccio caro. Beh, è così, ecco che azzurri e fratelli d'Italia e Lega pensano ai nomi. Nelle ultime ore si fa largo la personalità della vicepresidente della regione Lombardia e assessora della sanità Letizia Moratti. Ma continuano a nominare questa Letizia Moratti? Ma chi è che pensa questa signora da mettere ma a me non passerebbe neanche per l'anticamera del cervello di pensare a Letizia Moratti da mettere da qualche parte in politica quella nazionale ma non lo so da dove vi viene questa cosa? Cioè perché salta fuori questa Letizia Moratti? Ma da dove ma da dove vi viene? Con tutte le persone che ci sono nei partiti italiani dovete andare a prendere l'assessore alla sanità in Lombardia perché? Questa non l'ho ancora capita magari qualcuno me la spiegherà un'altra volta eh insomma Moratti possa accettare un ministero di peso a Roma ma perché? Perché la Moratti bisogna dargli un ministero? Chi? Fratelli d'Italia vuol dare un ministero alla Moratti perché? Nella Lega perché vogliono dare un ministero con tutti gli yes men che ci sono intorno a Salvini la Moratti? Con tutti gli yes men che ci sono intorno a Berlusconi la Moratti? Davvero non l'ho mica capito non l'ho mica capito addirittura come ministro della sanità in quota Fratelli d'Italia la Moratti boh sempre in lizza per lo stesso posto al ministero c'è anche Matteo Bassetti dice sono a disposizione a esposizione speranza è stato un disastro serve un infettivologo un infettivologo beh e poi abbiamo Francesco Paolo figliuolo già commissario straordinario dell'emergenza covid l'ex ministro dell'interno cioè Salvinius dice non ho nomi non al momento per il commissario straordinario pensavo però all'esperienza di figliuolo a livello nazionale e di Bertolaso a livello lombardo non penso che Bertolaso accetti di fare il commissario all'immigrazione clandestina e non credo che neanche figliuolo si metta in un problema di questo tipo non credo però poi il fatto del ministro è una calamita per molti perché insomma ministro è ministro è una posizione di assoluto prestigio e potere però diciamo con i magistrati che stanno lì ad osservare non credo che sia quello di ministro dell'interno o quello di commissario straordinario all'immigrazione clandestina sia un qualcosa che una persona poi possa dormire tranquillo la notte ecco insomma non so se ne vale la candela voi lo fareste arrivederci a tutti e grazie e grazie